Buonasera e buon venerdì amici di Teleprime ben ritrovati ad una nuova puntata di Prima Serie A ve l'avevamo promesso non ci saremmo fermati anche post campionato poiché dobbiamo parlare di tantissimi argomenti del calcio mercato, delle ultime in casa Napoli, della prima settimana in azzurro di Luciano Spalletti con le linee telefoniche veramente di fuoco e ovviamente della nazionale perché in questi minuti si sta giocando però gli europei sono davvero vicini. Prima di tutto però come sempre sigla! Eccoci qui vi ho introdotto alcuni dei nostri temi dei quali parlerò questa sera con i miei ospiti infatti il parterre è d'eccezione parleremo anche del mercato estero veramente di tanto con due specialisti in primis un graditissimo ritorno dalla nostra redazione Francesco Vassura Ciao Ale, buonasera, buonasera anche al direttore Benito Poi hai spolerato l'ospite, il nostro ospite Salutiamo prima! Infatti un altro graditissimo ritorno poiché amico di quella che è stata Area Goal che poi è sempre ovviamente il nostro format di Teleprima Benito Letizia, direttore di StadioSport.it Buonasera a tutti, buonasera Alessia, è un piacere tornare qui dopo un anno dal Covid e questo c'è la grande speranza per il futuro direi È verissimo, è verissimo, un anno che abbiamo trascorso anche un po' ovviamente in sordina poiché ne parlavamo anche prima a microfoni spenti eravamo abituati a trasmissioni con tantissimi ospiti, lo studio davvero pieno ma siamo certi che manca poco e ritorneremo anche in quella situazione dove veramente con i club, con i colleghi riuscivamo a parlare in modo spensierato ma veramente con un grande quantitativo d'ospiti quindi ci avvicineremo anche a quell'idea di format Iniziamo subito però a parlare prima di tutto delle novità in casa Napoli Vi avevamo lasciato la scorsa settimana praticamente con l'imminente ufficialità di Luciano Spalletti è venito per fortuna, tutto è andato bene, il contratto è piaciuto allo stesso Spalletti non ci ha messo neanche troppo per leggere questo contrattore pervenuto Evidentemente Spalletti è un grande lettore di romanzi le 80 pagine dei contratti di Laurentiis sono sempre molto difficili da assorbire facilmente È vero, è vero, tutto è andato come previsto, era una notizia già molto chiacchierata che era nell'area da un po' è stato lui l'uomo prescelto da De Laurentiis che comunque ha puntato ad un allenatore d'esperienza anche internazionale e non ha voluto ridimensionare per così dire il progetto Napoli nonostante la Champions sfumata Assolutamente, ha fatto uno step in avanti con Spalletti a livello mediatico può essere paragonato all'arrivo di Ancelotti due anni fa speriamo con esiti differenti a livello tecnico-tattico è un continuum rispetto al progetto di Gattuso e io non capisco queste critiche che spesso circolano nell'ambiente napoletano sul carattere di Spalletti voglio dire, il Napoli è sopravvissuto al carattere di Mazzarri al carattere dello stesso Gattuso perché non dovrebbe sopravvivere anche al carattere di Spalletti certo, c'è la mitologia dello scontro continuo con i capitani della Roma con Totti, dell'Inter e dei Caldi però in situazioni diverse situazioni spinte più che altro dalle società con Totti per l'avanzata età fu un errore ovviamente con i Caldi invece il litigio Vandanara, Brozovic, Perisic però sappiamo benissimo che Spalletti in Serie A ha sempre raggiunto l'obiettivo dai tempi della Roma addirittura con l'Udinese due volte in Champions League la prima volta fu eliminato dai preliminari quindi è una scelta più che giusta Ecco, un curriculum ovviamente di tutto rispetto Franci, molti dicono proprio per il suo carattere non mangerà il panettone a dicembre però possiamo dire che per aver accettato il progetto Napoli è ben cosciente sia lui ovviamente che il presidente De Laurentiis del lavoro che va svolto e sicuramente avranno parlato anche di mercato e delle potenzialità di questo Napoli Sì, la squadra del Napoli ha potenzialità le aveva prima di Spalletti le avrà con Spalletti dubito che non arriverà a mangiare il panettone anzi mi sembra molto più percorribile l'idea e vado forse un po' troppo in avanti di prolungare il contratto che è stato anche previsto come opzione nelle famose 80 pagine di cui parlava anche prima il direttore quindi ci sono le opzioni per andare avanti secondo me il progetto è ambizioso De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni ritiene Spalletti l'allenatore giusto per ripartire dopo comunque una Champions sfiorata con Gattuso comunque ci sono stati qualche screzzo ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri programmi Spalletti è un allenatore importante secondo me potrà fare bene mangerà il panettone colomba e anche i panettoni a seguire secondo me Ecco, questo è un bellissimo auspicio anche perché Benito e il Napoli ha bisogno proprio di progettualità poiché negli ultimi anni soprattutto forse tranne con Sari dove è stata veramente tutta una favola tutto un qualcosa di magico ma con Ancelotti il rapporto è terminato con l'ammutinamento con Gattuso praticamente è arrivato a fine stagione ma a febbraio era già finita esatto, a febbraio già era finita con le varie dichiarazioni e comunque il rapporto era logoro quindi il Napoli avrebbe bisogno proprio di almeno due stagioni programmate di serenità con un tecnico a livello tecnico-tattico sì io parlerei più che altro di una progettualità societaria che deve partire dal silenzio di De Laurentiis perché come ha detto Vieri questa cosa mette un po' d'accordo tutti gli ospiti di prima seriale come ha detto Vieri quando parla De Laurentiis fa solo guai quindi prima di tutto De Laurentiis deve stare in silenzio per un po' di tempo e deve lasciare lavorare i propri allenatori con Gattuso secondo me c'è stato un qui poco a febbraio non si è capito che in quel momento così difficile a livello di infortuni perché nelle famose 11 partite in 40 giorni febbraio prima settimana di marzo la storia ecco di Gattuso non poteva essere valutata per quei 40 giorni con invece Ancelotti c'è stato un problema evidentemente con la Rosa con alcuni senatori della Rosa mentre con Sarri lì è mancato proprio il salto di qualità è mancato a livello tecnico-tattico le famose campagne di calcio-mercato invernali mi ricordo un certo Regini all'improvviso senza un motivo il non arrivo di Politano che poi arrivò un anno più tardi quindi prima di tutto lo step che deve fare il Napoli a livello societario poi solo in un secondo momento a livello tecnico-tattico perché la Rosa del Napoli anche in questo momento è seconda solo a Inter e Juventus punto come potenzialità poi c'è una squadra da migliorare è una Rosa da migliorare perché ha bisogno di un mediano da centrocampo a due in questo momento c'è solo Demme considerando che Bagaglio Co dovrebbe tornare al Chelsea e un terzino sinistro che si porta dietro dai tempi di Goulam Sardi famoso infortunio in Champions League se ricordo bene Manchester City e da allora non si è più ripreso il povero Mario Rui la sua prestazione la fa sempre però non è all'altezza di Lorenzo a destra e di adesso della Dosa assolutamente ti faccio anche un'altra domanda ti aspettavi Gattuso subito alla Fiorentina? no mi aspettavo soprattutto con questo giro di panchine che aspettasse almeno un paio di settimane non dico tanto anch'io devo dire la verità anch'io soprattutto considerando che c'era una Lazio che ha potenzialità magari maggiori rispetto alla Fiorentina non a livello di denaro di soldi perché Commisto ci ha insegnato in questo anno e mezzo che ha tanti soldi da spendere però la Lazio comunque partiva dall'Europa League quindi una squadra sicuramente con ambizioni più elevate rispetto alla Fiorentina la Fiorentina è tutto un divenire bisogna capire che fine farà Milenkovic per esempio proprio oggi c'è stato un summit con Ramadani a Milano con la società della Fiorentina insomma con la dirigenza della Fiorentina c'è Pezzella che va in scarenza di contratto Castrovilli che ha bisogno del salto di qualità Vlaovic è stato nominato premiato con il miglior under 21 della Serie A quindi è comunque una squadra con tanti punti interrogativi a livello di possibili cessioni da ricostruire completamente vediamo io mi aspettavo un gattuso che aspettasse un attimino e poi scegliesse la posizione migliore sì anche avevo questa percezione però secondo me lui era proprio voglioso di serenità di una piazza più tranquilla di un progetto un po' più ridimensionato eh sì però sai non ci sono grandissime prospettive credo nel caso c'è comunque una situazione a maggior ragione se si dovesse rifondare sicuramente una situazione un po' più serena rispetto a piazze come Lazio o comunque come le Big che soprattutto il prossimo anno dovranno dimostrare tanto parlavamo proprio del Napoli Franci della società sicuramente qualcosa va rivisto soprattutto a livello comunicativo per evitare gli errori che abbiamo visto abbiamo analizzato già tante volte in questo inverno ma in settimana si è parlato tanto anche di una figura diversa che potrebbe essere d'accollante proprio tra squadra e società magari anche di un ex calciatore che possa conoscere bene l'ambiente ed è emerso anche il nome tra gli atti di Gianluca Grava Grava è una bandiera secondo me del Napoli ha vissuto momenti brutti e momenti bellissimi con la maglia azzurra è il momento più bello a memoria così di impulso e il salvataggio sulla linea prima del gol di Cavani contro il Lecce ma è stato un giocatore straordinario il gol se non ricordo male col Treviso la prima di Serie B insomma ha fatto tantissimo per Napoli conosce l'ambiente Napoli e alla fine lo dicevi prima quello che unisce un po' tutti gli ospiti qui è l'idea che manchi qualcosa alla dirigenza insomma anche salutare Gattuso con un tweet annunciare Spalletti con un tweet sappiamo che Spalletti è vincolato quindi si deve aspettare un altro po' però altrove questo non succede mettere una figura che ha carisma e esperienza e possa anche metterci la faccia chissà in determinate situazioni penso possa fare il bene del Napoli e se posso aggiungere è improponibile quello che è accaduto quest'anno a Napoli 19 giornate di campionato in silenzio stampa un qualcosa che all'estero non esiste e questo dimostra come il Napoli deve crescere tantissimo a livello societario la comunicazione è direi la condizione sine qua non del rapporto con i tifosi e con con le media loro hanno un contratto con i media non possono bypassarlo a causa della superstizione perché alla fine parliamoci chiaro quando ha cominciato a vincere il Napoli quando il Napoli è andato in silenzio stampa e si anche perché poteva essere gestito tutto sicuramente meglio ma soprattutto in quest'anno l'ennesimo covid edition dove i tifosi non potevano andare allo stadio i giornalisti purtroppo erano costretti ad andare allo stadio ma senza ascoltare conferenza o le voci dei protagonisti almeno ovviamente ascoltarle tramite le televisioni tramite altri mezzi era indispensabile ma anche per mantenere un ambiente sereno e scacciare via anche un po' tutte le polemiche perché poi si può parlare anche per quello non soltanto per far polemica ma anche per chiarire le situazioni assolutamente sì assolutamente sì deve essere così la comunicazione deve essere un modo per risolvere le questioni ma soprattutto stringere un rapporto con i tifosi di fidigliuzione possiamo definirlo a livello squisitamente economico-finanziario io spero che Napoli non faccia più la figura che ha fatto quest'anno lo speriamo davvero perché poi gli errori servono a questo per non ricommetterli poi ovviamente in futuro parlando di mercato l'ho detto in apertura Spalletti è uno di quegli allenatori che si può permettere ancora di alzare il telefono e di chiamare un po' di ex giocatori che ha avuto un po' di pupilli ha fatto molte telefonate almeno da ciò che emerge ovviamente sui vari quotidiani sui vari siti di informazione sta iniziando un po' a sondare il terreno anche perché non avendo ancora chiara la situazione cessione e si parla sempre di Fabian e di Coulibaly ovviamente bisogna vedere anche come operare su questo mercato assolutamente io credo che Coulibaly sia arrivato il momento di lasciarlo partire già tre anni fa il suo ciclo a Napoli era concluso in questi tre anni ha avuto un depaporamento del suo livello direi incredibile anche negli ultimi due anni con Manolassa ha dimostrato che qualcosa non va a livello fisico ha subito diversi infortuni ma soprattutto io credo che a Napoli serva come ho detto prima un mediano un terzino sinistro so che sta trattando D'Ambrosio che può essere un po' il jolly mandava dell'Il che però non ha giocato titolare quest'anno perché il titolare era Bradalic tra l'altro un giocatore fantastico Bradalic a sinistra nazionale serbo e poi vediamo un attimino in mediana cosa succede con Fabian Ruiz perché se non esce Fabian Ruiz non ci saranno i soldi per un possibile acquisto il Napoli quest'anno ha chiuso anzi il bilancio con circa 40 milioni di euro in rosso che non sono debiti attenzione sono semplicemente introiti non giunti nelle casse del Napoli a causa del covid della chiusura degli stati e della non partecipazione in Champions League perché porta minimo 40 milioni di euro alla Champions League in alcuni casi anche 60 per la prima in classifica quindi secondo me il Napoli senza gestioni non può fare grandi acquisti rispetto all'ultimo anno e mezzo in cui abbiamo assistito a Osime Empolitano Petagna Demme Robotica alcuni acquisti non azzeccati come Robotica però non ci saranno esborsi come quelli in anno scorso e di un anno e mezzo fa a gennaio lugna 20 cioè di 100-120 milioni di euro così sull'unghia come abbiamo visto appunto ultimamente ecco proprio sullo Botica sembra che sia da tempo in memore un pupillo proprio di spalletti e lì ovviamente sono partite una serie di ironie da parte dei tifosi poiché ovviamente è stato un calciatore abbastanza ai limiti del progetto del Napoli degli ultimi anni cioè da quando è stato acquistato non è neanche giocato poverino quindi eh sì veramente è un po' un'incognita possiamo dire però sembra che nelle intenzioni di spalletti ci sia rivalutarlo e rivitalizzarlo ma speriamo Robotica è nazionale è sempre stato un buon giocatore nella Slovacchia di Amsic nel Sertavigo però non giocava nel Sertavigo cioè giocava e non giocava nel Sertavigo è stato strapagato e secondo me è giunto lì a livello di mercato alle sue colpe perché non si può strapagare un giocatore 20 milioni più 4 di bonus e purtroppo non ha mai giocato nel Napoli ha giocato molto poco ha giocato più dem giustamente perché è un giocatore pronto a livello tattico a livello tecnico somiglia un po' al Giorginio prima maniera di Sarri un giocatore che magari fa poco è poco vistoso ma è sempre presente è un po' un equilibratore del centrocampo lì però serve qualcosa di più serve qualcosa di più Lobotka Spalletti si dice lo voleva già ai tempi di Rosenizzi a Piedoburgo anche all'Inter vediamo vediamo cosa succede ci avrà visto qualcosa di importante chissà magari magari la vista nazionale sì magari l'ha osservato chissà Franci invece ti faccio una domanda che in realtà era una cosa della quale volevo parlare già la settimana scorsa poiché tutto tace invece è qualcosa che comunque secondo me avrà una grande importanza cioè la questione portieri in casa Napoli poiché quest'anno è stato un po' un punto interrogativo un po' con la gestione Gattuso ovviamente Ospina dovrebbe andare all'Atalanta esatto o alla Fiorentina Gattuso aveva sempre preferito Ospina lasciando un po' ovviamente in disparte lo stesso Meretto con più competizione è stato più facile gestirlo fatto sta però che o si dà fiducia a Meretto o va via Ospina o si dà fiducia a Ospina e si manda via Meretto ovviamente in prospettiva anche Meretto che è stato poi convocato in nazionale per gli europei il raziocinio vorrebbe far proseguire Meretto e poi appunto come diceva Benito nel caso cedere Ospina ma questo anche dal punto di vista anagrafico Ospina è vero confermo quello che ha detto il direttore che proprio Gattuso lo vorrebbe perché si è trovato molto bene un portiere completo a mio avviso diciamo pareggiando un po' sulla bilancia un pochino meglio Ospina ma Meretto ha ampi margini di crescita ha pagato tanto anche lui secondo me però un giovane di prospettiva può fare bene l'europeo potrebbe dargli comunque quella fiducia eccetera non se ne parla io credo che si punterà su Meretto ovviamente qualora Ospina dovesse uscire però proprio dei portieri come dicevi giustamente se ne sta parlando poco il che non si sa se è un bene o un male ci sono tantissime situazioni che già bollono oppure per una volta c'è tra virgolette chiarezza si decide per una volta che ci sarà un solo portiere come secondo me sempre dovrebbe essere magari si può fare una distinzione tra campionato e coppia però la squadra anche deve sapere qual è il suo punto di riferimento perché il portiere è un ruolo secondo me leggermente più importante degli altri credo secondo me che Spalletti punterà su Meretto deve puntare sul Meretto è un classe 98 ricordiamocelo pagato 30 milioni di euro considerando anche Calnetis pace all'anima sua si potrebbe dire visto che scompasso e si parla anche di un possibile ritorno di sebe come vice Meretto oppure addirittura Milante a Palamato Zero che è andato via dalla Roma mi piacerebbe qualche operazione così perché comunque come no infatti si parla anche di Pezzella della Fiorentina di Inculu del Torino come possibili soluzioni low cost come difensore centrale dove Senesi del Feyenoord e Bottman del Lille che insomma è un giocatore fantastico Bottman del Lille sarebbero i grandi sogni del Napoli però senza riuscire i culipari ovviamente non può entrare nessuno non si può far nulla Gattuso che al contempo invece richiede un po' di calciatori dal Napoli lo stesso Isai sembra che sia in cima le sue richieste ma magari anche Maximo che ci direi esatto se li portasse a Firenze perché no perché no magari anche Marcui che ritorna a casa a Napoli potrebbe ecco magari essere riacquistato dalla Fiorentina dove non ha giocato quest'anno con Iachini nonostante un modulo in cui secondo me sarebbe stato perfetto cioè il 3-5-2 perché lui è un giocatore di corso a me piace tanto piaceva diciamo come calciatore ovviamente non un fuoriclasse però piaceva la sfitta offensiva il grande proprietario del Napoli secondo me è Goulam che è un peso da 3.500 netti a stagione di cui non si riesce a liberare fondamentalmente è verissimo bisognerà assolutamente risolvere anche questa questione altra questione di mercato ne parlavamo prima appunto l'arrivo di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid ha un po' scaldato tutto il mercato poi dopo nella seconda parte parleremo anche del mercato delle altre big di serie A ovviamente anche un po' il mercato estero fatto sta che notizia di oggi che Ancelotti avrebbe fatto sempre la proverbiale telefonata ai vertici del Napoli poiché super mega innamorato ancora del ciuchilosano sì Ancelotti torna a casa c'è da dire va segnalato che colleghi molto più autorevoli di me del Telegraf hanno detto che prima Florentino Perez ha telefonato a Murigno che voleva prima a Murigno il clamoroso ancora più clamoroso secondo me di Ancelotti però il richiamo del Real Madrid è troppo forte con tutto il rispetto per l'Everton e del povero James che era tornato andato in Inghilterra per seguire Ancelotti e dopo un anno già deve andare via però anche lì da un punto di vista societario è diverso Ancelotti già presentato già fatto conferenza molto importante alla grana Sergio Ramos fortunatamente giovedì Lucas Vázquez ha rinnovato fino al 2024 quindi secondo me è molto importante sì ha chiesto Lozano vorrebbe forse anche Coulibaly deve valutare se è naturalmente un giocatore da Real Madrid perché Real Madrid ha vari giocatori in prestito vuol dire Scegine uno cioè tutti e due poi andiamo veramente in difficoltà torna a Odegaard l'Assen torna a Odegaard torna a Bale ingordo Ancelotti qualche diciamo scelta Ancelotti come sempre da allenatore del Real Madrid c'è è un allenatore che insomma anche a livello di palmarès c'è veramente poco da dire e quando sceglie i giocatori difficilmente sbaglia non ha la squadra secondo me galactica con cui vinse la desima ho avuto modo qualche giorno fa di rivederla squadra veramente forte adesso ha qualche difficoltà in più potrebbe essere anche in ottica Madrid di ricostruire è un allenatore che secondo me può fare bene adesso è più tranquillo ha vinto quello che doveva vincere è un allenatore che può fare può continuare a fare la sua storia Lozano secondo me non è forse ancora un giocatore da Madrid perché insomma non è semplice Coulibaly già per quello che ha costruito e per quello che secondo me può essere non sarebbe titolare però qualora dovesse uscire non solo Sergio Ramos ma anche Varane il Real Madrid potrebbe pensarci e sì sarebbe una bellissima opportunità anche per lo stesso Coulibaly sono d'accordo sono d'accordo ne ha tanti il Real Madrid ne ha tanti quel Real Madrid di Ancelotti era tutto poggiato su Di Maria che giocava mezza la sinistra e si allargava a sinistra per accentrare con l'accentramento di Ronaldo a fare la seconda punta con Benzema ed era uno spettacolo vedete quel Real Madrid mi ricordo la finale in cui Di Maria gioco praticamente da solo Gareth Bale a destra che sembrava il Ronaldo Mancino il primo Bale era un gran bel giocatore sarà una squadra diversa ha tanti giocatori che devono secondo me ritornare a un certo livello come Hazard in due anni non ha fatto vedere niente al Real Madrid e ha due giovani fantastici Rodrigo e Vinicius che possono dare quel salto al Real Madrid a livello di interpendenza di velocità e di dibbbing quest'anno ha fatto molto bene Vinicius in Champions League l'anno scorso invece Rodrigo aveva fatto meglio in Champions League con il Real Madrid però anche un paio di giocatori secondo me sono molto sopravvalutati cioè Militao come difensore centrale e soprattutto Mendy che a parte il gol con l'Atalanta poi si è visto molto poco a centrocampo ha due giocatori fantastici Cross e Modric però hanno 36 3 e 37 anni cioè hanno una certa età deve essere sicuramente d'ingiovanita una rosa che ha dato tanto ma che è la stessa dalla decima di Ancelotti ormai sono passati 6 anni vado a memoria sì dal 14 Lisboa 6 anni quindi è una squadra che deve essere completamente d'ingiovanita ecco sponsorizzando anche Cullibali a Real Madrid noi andiamo un attimo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo perché dobbiamo parlare delle big di serie A del Valzer delle panchine ma soprattutto di nazionale ed europei a tra poco una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla campagna un occhio attento su tutto ciò che avviene in città benvenuti sul nostro quotidiano online di informazione nazionale e regionale focus sulla cronaca politica attualità cultura spettacoli e sport H24 ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook Instagram e Youtube tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it azienda leader nel settore delle costruzioni edifici industriali ed energie rinnovabili la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare anche nei rami delle costruzioni delle energie rinnovabili con rispetto e amore per l'ambiente e ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord con marchi importanti tali da accrescere così l'appel del nostro territorio Gruppo Marigan via consortile SNC 81030 zona Asi Teverula Aversa Nord Caserta Eccoci qui siamo ritornati dopo una brevissima pausa pubblicitaria perché dobbiamo parlare del Valzer delle panchine di serie A poi che ci aspettavamo una prima settimana una seconda settimana senza il campionato un po' più tranquille invece appena è finito il campionato è successo veramente di tutto l'abbiamo accennato un po' anche la settimana scorsa c'è stato l'addio di conti all'Inter che ha pubblicato proprio in questi giorni una serie di foto mentre in vacanza tutto sorridente tutto felice quindi evidentemente era un po' stressato aveva bisogno un attimo di staccare la spina dopo quest'anno veramente complesso e la gioia ovviamente dello scudetto la Lazio che aveva ormai un accordo di massima con tanto di stretta di mano con Simone Inzaghi e il giorno dopo invece le voci dell'accordo con l'Inter che poi è stato anche ufficializzato ma sono veramente tantissimi nomi per le varie panchine Sarri alla Lazio quindi veramente è successo di tutto Benito in due settimane è successo più di quanto sia successo in due anni a livello di panchine quindi è incredibile è vero Conte partiamo da Conte l'annunatore più pagato della Serie A non poteva non vincere il campionato dopo l'eliminazione della Champions League a dicembre però ha fatto bene perché se arriva Suning Zhang che dopo aver fatto fallire Jiangsu Suning dopo la vittoria della Super League Chanasi Super League Super League Cinese giustamente Conte dice io ho vinto lo scudetto non posso fare un passo indietro adesso devo almeno confermarmi mentre Suning vuole dar vita a un progetto nel quale ci sarà una riduzione del circa 20% del monte in gaggi e la cessione di uno o addirittura due big o diversi giocatori possiamo definirli panchinari per esempio come Sensi che si parla di Shakhtar Donesh dove sta del Zerbe adesso dove allena le Zerbe o di Achimi verso il paese Saint Germain si parla di una trattativa tra i 70 e i 80 milioni di euro e Lautaro Martínez che non riesce ad innovare questo contratto ormai da due anni quindi Conte ha preso la decisione giusta è vero è vero assolutamente e vi dico quello che è capitato invece alla Lazio perché c'è stato questo summit fiume dato 7-8 ore con tanto di cena di tonno a formello strette di mano ripensamenti però si chiama l'Inter l'Inter scudettata post-Conte Simone Inzaghi non poteva rifiutare diciamo c'è stata la conferma che ormai il valore delle strette di mano nel mondo esatto ma anche nel calcio evidentemente non valgono niente così come è stato ufficializzato anche l'addio di Donnarumma al Milan quindi il Milan ovviamente si è cautelato con un mercato già importantissimo fatto sta che il resto ovviamente è il punto interrogativo della prossima destinazione di Donnarumma si parla di Paris Saint Germain però ha rinnovato Keylor Navas sarà pronto poi ora facciamo il discorso precedente pronto per una super big? si è deciso di non rinnovare e io qui non do colpa a Raiola perché Insigne ha cacciato Raiola Ramsik ha cacciato Raiola e ci sarà un perché di là ci sono tanti giocatori che hanno Raiola ma che rimangono negli ispettivi club ormai il ragazzo ha 23 anni non è più un ragazzino ma è un uomo ha scelto con la sua testa però il problema sono le modalità perché se tu fino a tre mesi fa decantavi la tua fede milanista e soprattutto il tuo sogno di giocare la Champions League come capitano del Milan poi devi prenderti la responsabilità di andare davanti alle telecamere e dire no io qui non ci voglio stare Donnarumma in questo momento secondo me non ha mercato perché le grandi big del calcio internazionale sono tutte coperte si è parlato del Barcellona ma a Testegna che è un top portiere si è parlato del Paris Saint Germain un mese fa ha rinnovato Keylon Navas che facciamo con Keylon Navas uno che ha vinto tutto con Real Madrid il Paris Saint Germain cioè facciamo facciamo fare la riserva a Keylon Navas quindi io credo che il suo mercato sia molto molto difficile a meno che non si muova una diciamo porteggirevole in questo reparto la stessa Juventus ha Scesni guadagna 7 milioni di aeronetti a stagione si parla di Roma ma la Roma senza coppe o meglio con una conference league dove si guadagna poco e niente con un murigno guadagna 7 milioni e mezzo di aeronetti a stagione ha i soldi per prendere Scesni io non credo e tu lo piazziamo Donnarumma alla Salernitana diamo questa notizia basta la Salernitana al momento non sa neanche se avrà la possibilità di essere iscritta perché c'è la grana societanea è un'altra cosa strana della quale non se ne parla più 25 giugno scade l'ultimatum della FIGC per Claudio Lotito che stanno un po' studiando varie soluzioni sicuramente ci sarà un postanome che permetterà a Lotito di conservare la proprietà tra virgolette non nominale del club e farà ovviamente mercato troppo tranquilla come situazione quasi non se ne parla più Lotito è il signore del calcio italiano si si non si preoccupa più di tanto fatto sta Donnarumma Donnarumma quello che diceva il direttore è palese io francamente fossi la dirigenza del Barcellona nonostante l'immenso valore di Donnarumma non toglierei soprattutto tranquillità a Ter Stegen per un balottaggio che rischia di essere un po' complesso l'unica strada che vedo al momento percorribile oltre ovviamente ad un abbassamento delle pretese di ingaggio è Scesni che torna alla Roma e Donnarumma che va a fare il primo alla Juventus esatto e Scesni si parla anche del Borussia d'Otto è un'opzione Borussia d'Otto però non credo avendo chiuso Cobble da poco dallo Stoccata hanno speso 15 milioni quindi non credo più che altro penso che l'unica soluzione percorribile anche che quello che diceva il direttore è giusto il Barcellona il Paris Saint-Germain sono squadre che non possono dare non dico continuità ma sicuramente non la titolarità Donnarumma Donnarumma credo voglia andarsi a giocare le coppe l'unica squadra che al momento possa garantirgli diciamo una coppa prestigiosa come la Champions League è proprio la Juventus ma se non esce Scesni non credo entri Donnarumma a meno che non ci sia qualcosa in Inghilterra però anche lì il Chelsea anche Pai Mendy che è stato il mio portiere della Champions League lì è Pula Allison in Manchester City Ederson Ederson che non mi vediva il nome quali altre squadre l'Aster lo United ma avendo sia Ederson che De Gea dubito che avrà possibile molto difficile impossibile effettivamente è una situazione particolare fatto sta ovviamente che ora si godrà i prossimi europei che sono praticamente addirittura ad arrivo alla prossima settimana in questi minuti si sta giocando la gara della Nazionale contro la Repubblica Ceca l'ultimo test prima ovviamente della gara inaugurale degli europei anche dell'Italia contro la Turchia il prossimo 11 giugno con vocazioni che hanno fatto un po' parlare vabbè poi in Italia tutto è polemica quindi figuriamoci le convocazioni fatto sta che il Napoli parlando appunto di Sponda Napoli è andato abbastanza bene sono stati confermati Meret che era un po' l'outsider esatto infatti secondo me neanche lui ci sperava a un certo punto ovviamente Lorenzo Insigne che ha avuto la numero 10 quindi grandissimo riconoscimento di Lorenzo che ormai ha iniziato a correre da non so quanti anni e non si ferma più e purtroppo è stato sacrificato Politano bisogna fare una premessa secondo me che è d'obbligo cioè San Marino può essere lo sparing partner per decidere la convocazione di Bernaldeschi la risposta è ovviamente no che se si vince contro una squadra 7 a 0 qui potremmo citare Thomas Müller qualche anno fa quando ci fu quel casino quella polemica sugli infortuni io credo che non può essere lo sparing partner per decidere appunto una convocazione però ci sono delle attenuanti prima di tutto Bernaldeschi in questi tre anni è sempre stato convocato nel primo anno di Mancini era titolare a posto di Chiesa perché Chiesa era ancora in divenire l'anno scorso Chiesa poi ha rubato il posto a Bernaldeschi addirittura era in ballottaggio con Berardi con Escheravi con Grifo giocatore mitologico della nazionale di Mancini il problema di Bernaldeschi che viene da due anni assolutamente improponibili a livello tecnico perché secondo me ha avuto un depaporamento a livello tecnico non sa neanche più fare uno stop almeno nella Juventus e a livello tattico perché con Sardi giocava a mezzale in un centrocampo a tre improponibile perché ha la corsa ma non ha il fisico per farlo e quest'anno ha giocato terzino sinistro con Pirlo anche in questo caso a livello tattico improponibile quindi per quello che aveva fatto vedere in campo non doveva essere convocato non meritava la convocazione Politano meritava la convocazione ha fatto 12 gol quest'anno una grandissima stagione però ci può stare nell'ottica delle cose perché tre giocatori Mancini alle destre non li poteva portare certo tenendo conto che i titolari sono chiese in signe primo panchinato Berardi portare anche Politano sarebbe stato di troppo con anche Bernardeschi la domanda che bisogna fare è perché era Spadone non Ken che poteva fare tutti e tre i due e magari non portava Bernardeschi e soprattutto ci possiamo fidare di due giocatori infortunati a centrocampo Beratti che potrebbe addirittura recuperare solo per l'ultima partita contro il Galles se ricordo bene il calendario perché l'11 giochiamo con la Turchia la Svizzera il 14 il 17 con il Galles e Sensi che da un anno e mezzo che non gioca ha giocato forse vado a memoria nell'ultimo anno e mezzo 15 partite forse da tutte le competizioni anche in quel caso sono mai stato premiato è stata premiata la continuità nelle convocazioni perché Sensi fino a un anno e mezzo fa era la primissima alternativa ai tre titolari per Datti Giorginio Badella e poi c'è anche lo spaudacchio direi di Toroi secondo me senza senso o meglio il senso è solo tattico perché può giocare in tutti e quattro i ruoli della difesa però io Mancini l'avrei portato sinceramente uno dei migliori difensori della Serie A da tre anni un anno l'Atalanta e due alla Roma l'unico a salvarsi nel contesto difensivo della Roma tragico direi di Paolo Fonseca ci sono delle perplessità questo è poco ma sicuro ci sono le perplessità soprattutto per la condizione fisica dei giocatori più importanti bisogna vedere come arriverà Berotti quest'anno molto spesso infortunato Beratti sul più bello se infortunato Chiellini e Bonucci quest'anno non ne parliamo proprio Bonucci ormai è quasi diventato un ex calciatore questione età anche per loro un pre pensionato quindi e non ha un terzino di sinistro Mancino d'alternativo ad Emerson Palmieri ha preferito Spinazzola che per carità è un ottimo giocatore ha fatto benissimo con la Roma di Fonseca e niente quindi una tragedia insomma una tragedia e poi aggiungere le perplessità anche sul colore dei capelli di Bernardeschi che ha cambiato look che sono rimasto un attimo sullo stile diciamo americano del taglio di Bernardeschi si lascia il tempo per farsi notare dice forse mi noterà così e mi sceglierà si lascia il tempo che trova come le polemiche anche social con i vari Pirlo consorte e figlio che non commento perché non fa parte diciamo della mia indole io credo che l'Italia sia forte molto con o senza Politano con o senza Ken con o senza Mancini e con o senza Bernardeschi l'Italia è forte perché il gruppo è compatto però è normale che Memore è l'ultima esperienza purtroppo temporalmente parlando si tratta degli europei perché gli ultimi mondiali l'Italia scellerata l'Italia di ventura non si è riuscita a qualificare mancava un rigore a superare la Germania con una difesa rocciosa quindi secondo me l'Italia se riesce a ripartire dalla difesa può far bene il centrocampo è molto forte cioè a mio avviso il dubbio principale è sul rendimento europeo di Immobile e Belotti perché ci sono stati dei dubbi hanno fatto bene secondo me in Serie A Immobile soprattutto negli ultimi anni però quando si indossa quella casacca che pesa e a proposito di casacche che pesano spero non pesi la 10 perché la 10 è pesante perché un insignio in forma può fare veramente le fortune della nazionale sono d'accordo con Francesco le perplessità secondo me non sono su insignia perché in nazionale è quasi messi possiamo definirlo però Immobile e Belotti evidenzia il valore della nostra nazionale e del nostro campionato nel 2006 avevamo Toni Giraldino Inzaghi Iaquinta Vieri non convocato perché infortunato e con Totti del Piero che giocavano e non giocavano a causa delle difficoltà fisiche quindi il livello si è molto depavorato e con giocatori non convocati come precedentemente ancora con Chiesa Beppe Signori e chi più ne metta Mancini Parliamo di un livello assolutamente diverso di una nazionale completamente diversa ma speriamo assolutamente di divertirci andare più avanti possibile in questo percorso Ultima domanda anche un po' provocatoria Benito stiamo assistendo anche a un fenomeno particolare intorno alla nazionale tante trasmissioni un mini documentario che partirà da lunedì proprio di accompagnamento forse proprio per riavvicinare anche i tifosi a questa nazionale che sicuramente non è la nazionale del 2006 e forse anche complici dei risultati abbastanza deludenti degli ultimi anni un po' si erano allontanati da quello spirito che ci ricordiamo anche quando eravamo bambini con le bandiere tutti in piazza a festeggiare questo è un tema che a me veramente sta molto a cuore per me la nazionale indica ecco la nostra patria è un sentimento che io ho nel mio in me stesso nel mio essere siamo figli dell'Italia della nostra patria della nostra storia passata presente e futuro l'Italia deve essere un mezzo la nazionale italiana un mezzo di unificazione non solo a livello calcistico ma a livello di un popolo che purtroppo dall'unità d'Italia nel 1861 non siamo mai stati veramente uniti quindi con la questione meridionale eccetera eccetera quindi io spero che possa tornare quel sentimento nazionale del 2006 se me ne scironarmi po 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 e soprattutto a livello di trasmissioni un piccolo una piccola parentesi ho fatto mezzanotte l'altra volta per aspettare le convocazioni quindi spero che non succeda un'altra volta perché con la mia età avanzata Ma dai che sei sempre giovane, è vero che sei direttore, che sei professore, quindi tutti i paroloni impegnativi, però sei giovane, sei giovanissimo, assolutamente speriamo soprattutto di divertirci in questi giorni e queste settimane con la nazionale, anche perché noi viviamo di calcio, quindi non c'è il campionato, c'è la nazionale, c'è l'europeo, ci sono tantissime belle squadre da osservare, quindi speriamo bene. Per fare una richiesta ai telespettatori, quello di leggere bene l'inno nazionale, non parlo solo della parte cantata dell'inno di Mameli, ma di tutto, tutto l'inno italiano, che purtroppo non viene studiato nelle nostre scuole in educazione civica ed è un inno che trasmette tutta la nostra storia, parla di tutta la nostra storia, non solo di quella parte cantata e conosciuta da tutti. Quindi faccio questa richiesta ai tuoi telespettatori, ai nostri telespettatori. E di ripetizione di inno nazionale per tutti e anche per noi, accogliamo questa richiesta, infatti stasera ce lo andiamo a studiare assolutamente bene, ovviamente, quando terminerà anche la partita dell'Italia. Io vi ringrazio, grazie mille Benito Letizia, grazie. Grazie a te Alessia, soprattutto grazie a te le prime e a tutti gli telespettatori. Ti riaspettiamo quando vuoi, ovviamente, c'è sempre tanto di cui parlare. Grazie mille Francesco. Grazie, ci rivediamo martedì, assolutamente sì. Quindi ci rivediamo ovviamente anche martedì con Sport91 Live. Noi intanto vi lasciamo con i nostri programmi, grazie mille. Vi diamo appuntamento rigorosamente al prossimo venerdì con Prima Serie A. Buona serata. Noi intanto vi lasciamo con i nostri programmi. Noi intanto vi lasciamo con i nostri programmi.